Carabinieri assassini! Carabinieri assassini! Carabinieri assassini! Gridano carabinieri assassini. Ravenna, ore 18.30 del pomeriggio della domenica di Pasqua. Un'ottantina di nordafricani, per la maggior parte tunisini, hanno improvvisato un sit-in in Piazza del Popolo e hanno sfilato per le vie del centro, gridando carabinieri assassini. Sono arrabbiati, chiedono giustizia per la morte di Amdi. 27 anni, avvenuta questa notte in centro Ravenna. Intorno a mezzanotte e mezza di ieri sera, una macchina della municipale nota la macchina di Amdi in giro per Marina. Inti mano l'alta, ma Amdi accelera, rischiando di investire il vigile. Inizia l'inseguimento. Pattuglia del 112, del 113, dalla municipale dietro la macchina di Amdi. Nella corsa vengono anche speronate le auto. Da Marina la scena si trasferisce a Ravenna, centro città. In via Bassano del Grappa i carabinieri fanno fuoco sull'auto. Uno dei colpi sparati colpisce Amdi, che trasportato all'ospedale muore alcune ore dopo. Mi hanno ammazzato le carabinieri. Ho chiamato lui, ha detto che vieni a mangiare a casa, lui mi ha detto che no, sta seguendo le carabinieri. Fra un po' ti chiamo io. Ho chiamato due volte o tre volte. E alla fine ho sentito che cosa sia successo. Mi hanno formato le carabinieri, mi hanno sparato. Io veramente voglio la giudizia. Non voglio sapere chi viene avuto, ma fratelli non lo sappiamo niente. Noi vogliamo sapere che questa persona qua è venuta in Italia per lavorare, per fare la sua vita. Esce come tutta la gente per divertire con gli amici. e a un certo punto racconta la polizia e il carabinieri, forse ce l'ha con lui, non lo so, che hanno già portato via altri giorni fa. E è successo così. Appena lui è scappato, paura, perché tutti abbiamo nessuno. che ogni persona quando si spaventa si può non avere la macchina, non avere la patente, può anche scappare. Prima di tutto vogliamo sapere perché è morta questa persona così. Può magari fermarlo, controllarlo, controllare la macchina, vedere che cosa ha fatto lui, però un colpo, subito un test per morire, non è giusto, capito? Perché l'hanno ammazzato? Basta. Basta. C'è un motivo perché? Vogliamo sapere? Un essere umano questo, no? Lavora tranquillo, regolare. Va bene, ogni tanto qualcuno di noi, essere umano, fa un sbaglio. Li paga. Però non paga questo punto. Le ammazza. Dentro la sua macchina. E vogliamo sapere una cosa, perché le hanno ammazzato? C'è qualcosa che non va. 27 anni. Come si permette una persona ammazzare e sguzzare un'altra persona con 11 o 14 colpi di pistola da 27 anni? Il ragazzo non aveva la patente. L'hanno sequestrato, l'avvocato sai, e ce l'hai fra sei mesi l'esamino per prendere indietro la patente. Il ragazzo è bravissimo, io prendo la mia responsabilità di queste parole, fate quello che volete. Carabinieri, polizia, guarda di finanza, sono bencamai, fate quello che volete. Va bene? Il ragazzo non poteva avere questa pistola. L'hanno ammazzato perché vogliono ammazzare questo popolo di tinesini, di musulmani, non lo vogliono mai più in Italia. Allora cacciate via con dignità. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.